Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci. Oggi ti voglio parlare di come incide il ritmo del nostro sonno sulla caduta dei capelli. Recenti studi hanno infatti dimostrato che il sonno è molto importante in relazione alla caduta dei capelli, ossia lì dove non si dorme sufficientemente ore per notte o soprattutto non si dorme durante le ore prestabilite, le cosiddette ore migliori per il sonno, anche la caduta dei capelli aumenta. È stato condotto infatti uno studio su 34 soggetti che ha evidenzato proprio questo. Sono state analizzate tutte le normali motivazioni che causano la caduta dei capelli e invece è stato rilevato che l'unico motivo per cui cadevano era proprio la mancanza di sonno. Questo perché? Perché l'orologio biologico e i ritmi circadiani sono molto importanti. Nel momento in cui infatti sballa l'orologio biologico, anche gli orologi di tutte le strutture periferiche, compreso il cuoio capelluto, ne risentono. Che cosa succede? Quando l'orologio biologico sballa, il capello rimane di più in fase telogen, che è la fase in cui cadono i capelli prima di quella quiescente e che quindi poi darà vita alla ricrascita del capello. Un caso particolare di questo studio è stato dato addirittura da una biologa che viveva in Antartide. Si è notato infatti che durante la sua permanenza in Antartide, in particolar modo, lì dove andava a letto ad orari particolari a causa dell'elevato numero di ore di luce che si hanno nei periodi di luce continua, i suoi capelli cadevano più spesso. Quindi, detto ciò, in sintesi, ricordati sempre di dormire la giusta quantità di ore. Ricordati che un buon sonno ristoratore è quello che dura perlomeno otto ore per notte. E ricorda di andare a dormire ad un orario consono. Spero che questo video ti possa essere utile. Se mi vuoi fare qualche domanda, scrivi pure un commento, ti risponderò immediatamente. Grazie! Grazie!